Per la serie A VOLTE RITORNANO A VOLTE RITORNO Mi sembra di ricordare che avevo fatto un video poco tempo fa dove provo a disegnare me stesso in versione manga C'ero riuscito in maniera discutibile No, non c'ero riuscito a dire il vero Allora oggi voglio riprovarci NO Allora oggi voglio riprovarci però stavolta farò riferimento a un tutorial di un disegnatore professionista e il tutorial che seguirò non lo so ancora, devo guardarci intanto accendiamo l'apparecchio Ho trovato questo tutorial come disegnare un volto manga di Richard Htt di Richard Htt e noi cosa faremo? Il generale, quello più generale perché noi siamo dei generalisti Io spero adesso che in questi 17 minuti di tutorial ci sia un varco di speranza per me che riesca a creare un volto manga minimamente accettabile per standard mangistici giapponesi Se mantenesse la connessione È mezz'ora che sto cercando una postazione decente Il corredo dell'artista di oggi Matite di vari spessori, varie densità poi una biro che non servirà suppongo e dei tratto pen kine insomma il solito corredo che vedete già da diversi video Andrò con un tratto abbastanza pesante così almeno posso iniziare a matita faccio meno danni dell'altra volta si spera però riuscite comunque a contemplare la bellezza del tratto e mi fermo qui Bene, concentrazione Va bene, partiamo E' già un gran traguardo che abbiamo entrambi il cartoncino temevo fosse su tela allora i problemi potevano essere maggiori Ah! Questo video inizia bene ragazzi questo video inizia bene La matita è un po' diversa però adesso controlliamo lo spessore Un cerchio Un cerchio Diciamo che è un cerchio Asse verticale Non so che spessore debbano avere queste linee magari sono linee solamente di progetto e allora poi vanno cancellate e lì sarebbe un po' un problema Sì, in effetti Ma... Avendo fatto questo già si può intravedere il volto del nostro personaggio Questa qua è la testa Ah sì? Mancano gli occhi Gli occhi invece sono un'asse orizzontale Si sta guardando Fin qua Ora non volete bene Fin qua c'è una certa somiglianza Va bene, lo so Sono parole forti Però Noto un percorso che si sta concretizzando A tra poco No, continuiamo Per adesso è abbastanza semplice Ho seguito tutorial peggiori come quello dell'origami di Star Wars di un po' di mesi fa Questo almeno non sono ancora partito con la testa A me sembra un po' un bongo Beh, facciamo un collo slanciato Allora, un momento Ah ok, ipoteticamente Le orecchie Ok, la fonte arriva qua Ora, dopo aver fatto la nostra struttura del personaggio Dobbiamo Visto che ci sono così tante linee Prendere la nostra gomma Ah! Lo sapevo che c'era da cancellare 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 leggermente In maniera tale che questa nostra struttura Possa essere soltanto Vabbè, un po' ho cancellato Si vede? Un po' così Et voilà Voilà Allora, qua inizia la parte un po' più figurativa Gli occhi Vedete delle immagini di riferimento? Non preoccuparti Richard Che io seguo te Io ho fiducia in te E faccio le stesse identiche cose Che vedo su questo display Quindi se sbaglio È colpa mia Però è anche un po' colpa tua Ok, allora L'occhio arriva qua Più o meno Ok, in realtà Toccano questa linea curva In realtà Adesso Lo risolviamo Allora Ha già fatto le pupille Devo un attimo mettermi al passo Ok, allora Gli occhi Allora Stiamo leggermente degenerando Sembra qualcuno Che ha subito un grave shock Emotivo Molto, molto più Fluidamente E spontaneamente Ma non mi dispiace Mi sta iniziando a piacere questo tutorial Perché noto Che non è così male Io mi aspettavo un di... Oddio Dalla fotocamera Sembra più brutto Di quello che è in realtà Più che altro Vedo che adesso È partito con L'inchiostro L'inchiostrazione L'inchiostramento E allora Noi li abbiamo qua pronti Ho fatto bene a portarli Vedi che Vedi che c'è intesa Allora mamma La stessa gomma Stesso foglio Bianco Non che ci sia ampia Scelta di foglio in realtà Stessa Più o meno matita La penna Notiamo Che è Anch'essa Uguale La sua è più carica Però penso che possa bastare Quindi Quindi Continuiamo Adesso qua devo dire Che è una tecnica Che non ho mai visto Sorprendentemente Mi trovo a usare La biro Per inchiostrare Ma va bene Perché abbiamo dei materiali Grezzi Delle tecniche Prese da Oggetti di uso comune E scusate Adesso la smetto Di fare della posa Io ho paura Di perdere sempre L'inquadratura Perché poi La testa parte Mi immergo nel disegno E Finisco All'odi Diamo insomma Equilibrio Cosa che Cosa che sta iniziando A mancare In questo disegno Sono proprio curioso Di sapere Come sta avvenendo a voi Nel caso se volete Condividere con me I vostri disegni Potete trovarmi Su Instagram Guarda Richard Non ti conviene Non condividetegli Di questo video Per piacere Resti tra noi Questo è un video Tra pochi intimi E così Di ve ne stare Sto cercando Di imitare I tratti Che vedo Che sono Abbastanza semplici Quindi Se si seguono Potrebbe avvenire Un buon risultato La bocca Devo dire Io l'ho fatta Un po' più carnosa Però Un volto femminile Secondo me Non è male Come idea Ma si Reinterpretiamo Le orecchie sono coperte Dai capelli Quindi noi Comunque Le abbiamo disegnate Per sapere dove erano Così Ah le copre Vabbè Ma mi lasciamone Un pochino Così Devo leggermente Aggiustare le sopracciglia Beh leggermente C'ha qualcosa Nell'occhio Che non capisco Suppongo un riflesso Perché a volte Fanno questi riflessi Sì È un riflesso Bene Faccio due ultime Imbreggiature E ci vediamo Tra poco Signori L'emozione mi ha fatto perdere la voce Signori L'opera è finita Che ve ne pare? A me pare Bene Meglio dell'altro video Direi che un passaggio in avanti Forse lo sia fatto Ho apprezzato il tutorial Perché alla fine Rispetto ad altri Ho trovato Maggiore somiglianza In un volto Insomma Dai Beh dai Su Un'altra opera Sicuramente da aggiungere Allo splendido portfolio Che stiamo creando Su questo canale Detto questo Vi saluto Spero vi sia piaciuto Questo attacco d'arte E ci vediamo Al prossimo Attacco Di video Ma prima Dobbiamo dare un tocco finale Che renda questo dipinto Più personale Un tratto significativo Di questo canale Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.